La protesta dei marittimi di Torre del Greco sbarca nuovamente a Roma. Presidio ieri mattina davanti al MIS e il Ministero dello Sviluppo Economico per la vertenza Mobi, a poco meno di dieci giorni dalla scadenza del 31 marzo, stabilito dal Tribunale di Milano come termine ultimo per trovare l'accordo tra i vertici di MobiCin e i commissari di Tirrenia in amministrazione straordinaria per scongiurare il fallimento del gruppo. A guidare la mobilitazione da Torre del Greco il presidente dell'Associazione Marittimi per il Futuro, Vincenzo Accardo. Tutti devono assumersi le proprie responsabilità. Sono a rischio infatti oltre 6.000 posti di lavoro. La rabbia espressa dai marittimi che ieri mattina sono partiti in pullman da Torre del Greco per far sentire la loro voce. Un presidio che ha visto la partecipazione delle organizzazioni sindacali. Finalmente il Ministero dello Sviluppo Economico ha preso atto delle ragioni della nostra protesta. Hanno poi dichiarato i rappresentanti sindacali di Filt CGL e Filt CISL. Abbiamo ricevuto, riferiscono le due organizzazioni sindacali, l'impegno nel trasferire i commissari di Tirrenia in amministrazione straordinaria e al MIMS la necessità di dare evidenza alla tutela occupazionale nel caso in cui non si arrivasse all'accordo sul piano del risanamento del debito con il gruppo onorato.